Poi ragazzi, siamo tornati alla sesta parte di Super Mario Sunshine A 11 Sori custodi Yes, meno male, guarda, veramente, sono contento Ok, io direi di riprendere dove l'ultima volta ho rinunciato molto vergognosamente E cioè qua Non qua Non qua 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 Cioè non qua lì Cioè non qua lì Sì, vabbè, avete capito Poi, vi prego, voi nei commenti Iscrivetevi tutto E volevo dire ancora grazie all'astassimo 96 Che veramente è un grande, è uno strafigo Veramente, io voglio che carichi anche lui qualche video perché Mi piacerebbe moltissimo, io commenterei tutti i belli i suoi video Anche se caricasse Un video dove c'è, dove c'è, cioè Proprio qualcosa di noioso, ma non me ne frega È veramente un grande per me A prima vista è veramente un grande Spero che carichi qualche video che non vedo l'ora così almeno di commento Eh, va beh Comunque Facciamo quello che dobbiamo fare E' costruito Oc 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 Così possono lanciarti e distruggere La Sarola Ecco sono già... ho quasi già finito le vite, cioè no, non è possibile OK per fortuna lo sconfitto bene due minuti per poter per poter entrare nel cannone però almeno ok qua non potremo usare il nuovo splac l'ultima volta ho interrotto qua in pratica perchè ho passato veramente lungo in pratica qua i blocchi compariranno e sbariranno in pratica veramente molto difficile cioè non è difficile però è difficile e se non state attenti vi svaniscono sotto i piedi ok qua vi svegli un segreto anche se lo saprete già qua c'è un fungo vita a me piace moltissimo quando prendo i funghi vita ok quindi 1 2 aspetta se ok no 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 manteniamo la calma 1 2 2 no 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 sì o c'è no non è possibile dai ti prego non posso impiegare tutto il video per fare solo sta cosa qua ok ok qua bisogna essere più veloci della luce prima che tutti i blocchi svaniscano bisogna ok ok la c'è un fungo vita però non credo che ce la farò prenderlo non ci si lo prende no non lo prendo vabbè scappa 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 scappo ok finito prima del previsto così a meno tempo anche forse per sbloccare Yoshi che è il nuovo personaggio per farla breve guardate la parte 5 io li descrivo proprio come Yoshi diciamo sì diciamo quindi ok ok sbom bellissimo io mi immagino c'è qualche volta sbagliare a dire che spera andrà contro una montagna mia le monete rostrano amico mi insegna questo d è lungo marcarola vabbè comunque ce la faccio si dai c'è impossibile che non ce la faccio mister ma la sancione a farlo mai fallito si anche troppe volte vabbè comunque si le navi dunque bellissimo mi piace questo parco mi ricordo un sacco mirabilandia l'acqua park i tubi dove si scegno giù con il gommone mirabilandia forever ok qua in pratica bisogna aspettare che le navi si fermino cioè fermino si calmino in modo da poterci salire sopra e poter prendere tutte le monete però il problema che è una rottura perchè è l'uomo cacchio che ho preso l'uomo 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 costa l'uomo 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 consiste nel salire spagliato vabbè comunque no toliti togliete di mattoni buttati ok no ho fatto tutto il metà del tempo scusate un po di traspino ok l'altra parte con questo in questa stagione pensiero che tra un po' è stato c'è primavera non ancora ok questi tizzi qua ci dà fastidio quindi dovremmo eliminarli in questo metodo con questo metodo in pratica lo schianto terra e basta nego cosa stavo dicendo lo so comunque si elimina con lo schianto terra no ok ok il corno roma di mario d'oro no devo rifare tutto perfetto ok siamo già sette minuti no 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 roma niente recupero e recupera non pensavo di riuscire a recuperare mi sento non recupero ma niente solo i vestiti dall'asciugatrice che sono stati troppo no 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 ah per sconfiggere a appena ok ok quarta monica quarta quarta qua c'è la quinta io uso una tecnica che voi però non usate vi lasciate ok ok le altre monete mmm la ah c'è anche la moneta blu se riesco a prenderla si bella ogni volta in pratica le monete blu se verano che ahm cioè ogni volta che ne prenderemo ogni 10 ci teranno sulle custodie ecco proprio tagliato detto in modo molto napoli potete vedere sopra che c'è un altro quindi mmm sei mi insegna che giro ahi alla gola dai oh scusate se l'occa morte l'audio va va in vacanza ehm l'audio va in vacanza alle maldive bella mi piace ok ok no 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 eh no ciao bello non mi freghi no bello bella lì ecco però adesso prendo da da cacchio oh ok ok qua un'altra moneta salve continuo che bello salvare saltiamo giù ok bella tutto di dietro marcia ok saliamo facciamo un altro mondo poi fermiamoci perchè veramente il tempo è nostro amico ok bella ok 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 no 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 cacchio mi piace quando succede mi piace quando succede ok spero che questa visione sia quella dove si può sbloccare i ossi perchè forse forse è un altro e la terza o la quarta ah no dire su il pericolo no facciamo questo dato che sì sì capisco il trucco ho capito ah no è questa sì sì l'ho riconosciuta no perché ragazzi in pratica mi sono sbagliato perché in pratica credevo che il nome della missione era salvaiosci no 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 è proprio girassi in pericolo in pratica questi sono uova yoshi finte che dovremmo di sconfiggere con una tecnica un po' stramba svegliamo anche quella la vieni ok questi sono finte uova yoshi ok ora dobbiamo combattere così ora dobbiamo combattere così andiamo lì m bella segamo volto no crepa no bella vai vieni qua brutto cretino bella ok tirato su un altro vieni qua praticamente queste qua sono finte uova yoshi che hanno fatto fuggire gli yoshi vieni in pratica se vediamo questa missione poi prendiamo i yoshi bene mi ha liberato un altro vieni qua cretino vieni fatti avanti non puoi competere con mario the sunshine oh epico ha sbattuto contro l'albero ha sbattuto la testa contro l'albero lol ok non ce la faccio no 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 non ce la faccio svegliarlo vabbè vabbè fa niente penso che riuscirò a fare in tempo anche a fare quella roba la belle casse che l'altra volta lasciato in sospeso vieni 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 molto per completare il gioco al cento per cento perché se dovessi completare il gioco al cento per cento in tante partice mettere molte parti parlo qua si ce la facciamo le liste o non la che aveva preso l'uovo yoshi noi dovremmo spruzzare il vero yoshi brutto cretino non te la farai franca la farai giovanna franca no ok agente 007 qui contatto abbiamo trovato il soggetto soggetto di identificato come o mario ombra spruzzare acqua spruzzare acqua il soggetto si dirige verso la prigione ma non si chiama si chiama che non spalla lo prende e gol e gol ed è un bellissimo gol mario 1 n ombra 0 bene allora questo yoshi in pratica aprirà in molte parti dell'isola su un tetto in pratica vedremo la forma di una banana in pratica sarà frutto che lui vorrà per nascere cioè se per esempio non importiamo il peperoncino guardate cosa succede vedete la x noi non lo rifiuta mentre il peperoncino non mi serve più mentre se noi portiamo la banana yoshi bellissimo yoshi guarda con questo yoshi possiamo fare di tutto lui mangerà frutti che gli faranno cambiare colore cioè se per esempio prendiamo le non so queste le pere diventerà arancione se prendiamo il cocco diventerà così se rosa se prendiamo il durian diventerà viola e così via e ogni succo avrà un effetto diverso su nemici ci sarà un succo che li trasformerà in assi per da sollevarsi e in pratica questo yoshi questo era quello che volevo mostrarvi ragazzi ci vediamo nella prossima parte sempre con Mr.Maga Sunshine e i suoi video ciao